ciao a tutti e bentornati sul canale oggi come avrete letto già dal titolo un video super super richiesto di una tipologia che mi richiedete veramente un giorno si e l'altro pure ma che ultimamente faccio troppa fatica a registrare perché fortunatamente mi viene da dire non mangio mai a casa da sola e quindi gli unici pasti che faccio per conto mio sono le merende e non la faccio nemmeno sempre e quindi mi risulta difficile registrare eating sounds ecco fatto allora oggi facciamo merenda magari se ve lo metto dritto è meglio andrò a mangiare queste gallette di riso con il cioccolato fondente ultimamente sono entrata in fissa completamente per le gallette non perché io sia a dieta assolutamente no anzi io sono una di quelle che mangiano le gallette di riso con la marmellata o con la nutella per dire solo che mi piace proprio la consistenza mi piace che scrocchiano non so scrocchiano 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 e quindi le sto mangiando molto volentieri queste qui le ho comprate alla Lidl e sono già colose perché hanno già cioccolato sopra ma spesso appunto compro anche quelle scusate sto guardando il coniglio spesso compro anche quelle normali e poi appunto ci metto la marmellata o qualsiasi altra cosa andiamo ad aprirle perché sono in super ritardo le ho già tirate fuori tutti e tre così faccio casino una volta sola e buon appetito e buona merenda a voi la cioccolata che c'ho sopra è fondentissima le avevo già prese col cioccolato al latte e il cocco ma mi piacciono quasi di più queste sono troppo sfiziose perché scrocchiano un sacco perché scrocchiano un sacco e buon appetito e buon appetito la calda e buon appetito e buon appetito è buon appetito Sì. Sì. come in ogni video di Hating Sounds che si rispetti è partito il frigorifero e lo taglierei come ho fatto già nel video precedente ma non ho tempo quindi spero davvero che vi dia meno fastidio possibile ho perso un chicco di riso per milano è che il riso che ho il riso con il riso è il riso che è stato pronto in tutto Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Comunque sono anche senza glutine e penso che tutto sommato vadano bene anche per chi si vuole concedere uno svizio in dieta perché contiene cioccolato fondente che è il meno tragico di tutti e basta va a riso, semi di sesano eccetera eccetera emulsionanti quello che è è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito sta succedendo il delirio con i cani di fuori anche il vicino prima faceva casino questa è la maledizione degli hating sounds ogni volta che ne voglio registrare uno capita di tutto questo è un corso gratuito è un corso gratuito Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Grazie.